Non sono i punti di vista noti e inflazionati, ma sono per certi versi intimi lo sguardo di chi ha fede, devozione e passione per la passione. Racconta e si chiama La lunga notte della madre il concorso fotografico bandito dalla confraternita Santissima Dolorata e San Domenico che raccoglie gli scatti dei fotoamatori. Ogni tarantino ci si può riconoscere, fanno bella mostra nel chiostro di San Domenico grazie all'ospitalità della soprintendenza. I primi tre classificati verranno premiati il 27 marzo alle 19 durante il concerto del lunedì di passione nella chiesa di San Domenico Maggiore, sempre in città vecchia. Il nuovo corso di questa nuova amministrazione della confraternita che ha voluto e sta cercando di dare un taglio più culturale. Arriveremo al 29 e il 30 dove ci saranno le scuole, le scuolaresche che ci visiteranno San Domenico per l'esposizione dei simboli e a cui è legato anche un progetto di laboratorio di fotografie e disegni. Questi sono soltanto alcuni degli eventi culturali voluti dalla confraternita nel periodo quaresimale e in preparazione alla settimana santa. Per consorelle e confratelli senza dubbio il momento più importante sarà quello della festa piccola dal quale trae origine il culto così radicato della dolorata. Il 31 di marzo alle 18 e 30 quella liturgia dei sette dolori e quest'anno sarà la testimonianza di un sacerdote iracheno, Ilal Yaki, a caratterizzare la predicazione della festa piccola. Perché noi viviamo l'esperienza meravigliosa del culto pubblico ma ci sono tanti posti nel mondo in cui i cristiani vengono perseguitati, in cui non possono esporre le immagini, non possono farsi un segno di croce.